Ciao a tutti e bentornati nella serie General Sound, io sono Stefano e a questo oggi vi parlerò di sistemi PA portatili Con l'avento dell'estate ma anche perché no con l'allentamento delle restrizioni a partire dal mese di giugno si sta pian piano tornando a vivere sperando che questa serenità duri a lungo Chiaramente con la ripresa della vita quasi normale ritorna anche un po' di eventi ma eventi che non sono per forza quelli in grande stile o i grandi eventi in teatri, nelle arene o nei grandi stadi Parliamo di eventi che possono essere anche per esempio eventi casaringhi, una serata tra amici con magari un karaoke improvvisato o perché no per esempio delle sessioni di allenamento all'aperto Una cosa che nell'ultimo periodo è diventata molto molto frequente vista anche l'impossibilità in alcuni casi di allenarsi all'interno delle palestre Come rispondere alle esigenze in termini di audio imposte da queste attività? Sicuramente con un sistema PA portatile In commercio ce ne sono tantissimi, nell'ultimo mese anche TecnoSound è tornata sul mercato dopo la vecchia serie Star tanto apprezzata è tornata sul mercato con la serie T-Lock Ma andiamo a vedere i modelli principali Qui con me abbiamo la T-Lock 110 quindi modello con woofer da 10 pollici In realtà ci sono tre modelli quindi con woofer da 10 da 12 e anche da 15 pollici E poi abbiamo invece per esigenze diciamo più piccole come per esempio come dicevo prima un karaoke casaringo la Star 08 Allora parliamo dalla serie T-Lock che è quella diciamo che è la vera novità di quest'anno T-Lock è un sistema PA portatile che come vedete ha una comodissima maniglia estraibile Altrimenti non sarebbe un sistema portatile E una potenza totale di 280 watt La dotazione che propone T-Lock è molto molto vasta Intanto partiamo con un doppio radiomicrofono UHF Attenzione perché nessun altro marchio, nessun altro prodotto sul mercato propone una dotazione simile in termini di radiomicrofono Attenzione non in termini globali ma parlo proprio di radiomicrofono Quindi su tutta la serie T-Lock dovete appunto un doppio radiomicrofono UHF Tra l'altro attenzione ai radiomicrofoni che hanno due pot separati di regolazione del volume come potete vedere qui nella parte bassa del pannello Per quanto concerne la materia delle connessioni la serie T-Lock è assolutamente ricchissima In materia USB possiamo infatti collegare una normale penna USB all'interno di ingresso apposito E quindi arrivare o meglio riprodurre i brani che ci interessano attraverso il menu di navigazione posto sulla parte alta del pannello Altre connettività SD Quindi possiamo inserire una scheda SD all'interno E chiaramente utilizzare, cioè selezionare i brani da riprodurre esattamente come nella stessa modalità utilizzata per l'USB Quindi con i bussanti di navigazione C'è il Bluetooth Funzione importantissima sia perché permette di appunto inviare file Quindi inviare un audio in tempo reale magari da uno smartphone o da un impianto Wi-Fi che prevede appunto una connessione Bluetooth O perché no anche inviare l'audio da un televisore Abbiamo due T-Lock, vogliamo avere un effetto stereo, quasi un theater Possiamo associare il vostro televisore che deve essere chiaramente munito di trasmettitore Bluetooth a due di queste casse E possiamo inviare tranquillamente i signali audio appunto a livello diciamo diffuso C'è anche la radio FM Per quanto riguarda la potenza 280 W di potenza per la versione di 10 pollici 300 per quanto riguarda la versione da 12 pollici 320 per quanto concerne invece la versione da 15 pollici Nella dotazione, ho dimenticato anche di farlo presente C'è anche il telecomando Un telecomando piccolo pratico che può essere appunto utile Especialmente se mettiamo il caso che state facendo Siete uno degli istruttori di un qualche sport State facendo lezioni, avete bisogno di inviare o stoppare i file audio Col telecomando tutto quanto si rende assolutamente semplice e fortemente intuitivo Stare un sistema molto più semplice o meglio la dotazione di base è la stessa La cosa che manca è il radiomicrofono È sostituito chiaramente da un microfono col cavo Un microfono che ricalca vagamente la linea di microfoni dinamici che tutti quanti ben conosciamo Funziona molto molto bene, tra l'altro può essere anche staccato Quindi se avete un microfono vostro che volete sostituire Si stacca il cavo jack e potete ripiazzarlo Parliamo però adesso delle optional per quanto riguarda il sistema T-Lock Allora mettiamo in caso che avete bisogno di un terzo, di un quarto radiomicrofono Il sistema T-Lock in tutte le sue versioni è munito di un ingresso combinato, un input quindi XLR jack Cosa potete collegarci? Sicuramente il sistema T-Mini Come ben sapete i T-Mini sono i nostri radiomicrofoni con ricevitore mini Quindi un ricevitore con connettore jack Anche per quanto riguarda sia per il single che per il doppio il ricevitore è solamente uno Quindi potete collegare il ricevitore all'ingresso jack del presente sul pannello oppositore Quindi utilizzare ulteriori due microfoni Se sei un istruttore di qualche disciplina sportiva Stai facendo lezioni ai tuoi allievi di taekwondo su un prato verde Stai facendo lezioni di karate, ninjutsu, jiu-jitsu, capoeira, spinning, aerobica, fitbox, non so quello che è E quindi chiaramente ti è scomodo avere il microfono gelato tra le mani Puoi tranquillamente utilizzare il T-Mini 1A Che invece coprevede il bodypack, archetto o lavalier Chiaramente si collega anche in questo caso il ricevitore all'interno della presa dell'input jack del T-Lock E si può utilizzare tranquillamente l'archetto per fare lezione con le mani libere Per concludere si tratta di una categoria di prodotti che era stata molto richiesta dai nostri rivenditori Per quanto riguarda la garanzia vale sempre la garanzia europea di due anni Garanzia italiana, in realtà garanzia europea è simile in realtà garanzia italiana Perché l'assistenza siamo noi direttamente che la facciamo Siamo tra i pochi distributori ad avere un centro di assistenza all'interno della nostra sede Quindi per qualsiasi problema nel caso in cui dovesse verificarsi Potete contattare il nostro servizio di assistenza e risolvere il problema in man che non si dica Per informazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche e i prezzi al pubblico Vi invito a visitare il nostro sito www.generalsound.it Trovate il link diretto in descrizione Prima di lasciarvi vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale In modo da restare sempre aggiornati sui nuovi contenuti online Attivare le notifiche in modo da essere avvisati quando un nuovo contenuto è stato caricato sul canale E seguirci su tutti i profili social Questo è quanto, appuntamento al prossimo video Ciao!